ricordiamo che questi video sono fatti da persone normali che imitano un contesto suburbano di personaggi divertenti e anche un po' scansonati che però parlano così che ti sfacco Guita Mario sono dei personaggi quindi non pensate che nella realtà noi siamo degli animali di merda eh i malacci schifosi sciocchi degli sciocchini chiacchetto lo calo non schiaffo siamo anche contro la violenza ricordatelo mettete like al canale iscrivetevi ditelo a tutti i vostri amici perché veramente buongiorno pronta si salve senta fate le mascherine certo fantastico che io e mio cugino massimino ciao bella ciao sono giovannino ma allora vogliamo fare un attimo abbiamo avuto un'invenzione sulle mascherine no per il covid no per essere sicuri ed essere hai capito ne vogliamo produrre una cifra sì una cifra vorremmo fare abbiamo quest'idea un progetto di fare delle mascherine adesso massimino ti spiega come sono fatte vai spiegaglielo tu che pezzo allora guardi 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 questo se mi senti sarà di un blocco se è andato tamarri cifra eh aspetta ricominciamo da dove l'ho rimasto ahhh senti allora noi vogliamo fare delle mascherine diciamo un po' speciali no una roba diciamo moderna per quando fai le feste sì perché noi siamo un duo famoso famosi quindi vogliamo far lanciare queste mascherine con lo slogan davanti e all'interno praticamente due cannucce le sacche le sacche porta bamba con direttamente le narici la puoi pippare così non ti vedono gli sbirri così sei fatto perennemente sai che storia la mascherina per pippare che ne pensi la fate sai che adesso ti narcolizzo tutta salamandra butteratissima da cioè ma ci stai prendendo in giro? no no se ti volevo prendere se ti volevo prendere in giro ti raccontavo quella del cavallo scema scema di merda tamarri e anche il fai quando lo ricarichi bisogna cambiare il titolo secondo me perché sennò lui vede quel titolo eh ma non devi scrivere c***i devi mangiare e devi mettere le faccine tu mi avevi detto di mettere i c***i sì ma non la scritta c***i devi mettere C A e poi due maialini e la I c'è una disputa fra me sto scemo perché questo carica i video ci hanno rimasto quattro video perché carica i video con i titoli che ho scritto c***o è colpa mia è colpa mia è sbagliato anche gli accenti incredibile mettile stai parti nei video perché non è te che ci sta scassiando adesso vediamo stiamo parlando è lui stiamo parlando è sentato nella conversazione stiamo parlando che c***o parli hai sentito? è una cosa più paradossale il mondo è un ricavo si? si salve mi scusi pronto? si? si pronto eh poi c***o per onde? si buongiorno salve senta lei fa le mascherine? no no niente niente non fate un niente non producete niente voi no non produciamo ma perché ho trovato il numero che mi servivano delle mascherine da produrre una quantità enorme no no non le faccio sto parlando io devi aspettare capito scemo ma come ti facci? eh u coglione non è che ti devi intrattenere con te stesso e sentirti Master Luther King lì come c***o si chiama l'ex presidente di sta minchia che ti dova un schiaffo scemo l'hai tratto in inganno tamari aia buongiorno aiaia cosa? cosa sei? Aldo Giovanni e Giacomo pronto? sono Massimini Massimini di quarto sentito che hai detto aiaie non ho capito niente pensa io senti ascolta fai le maschere sei mascheraio? chi chiede? che volete? un fiorino questa è una battuta vecchia è una roba di benigni Sono Massimino di Quarto, quello che adesso acchiappa i capelli, li tira forte e li suona come il coro di una chitarra Hai capito? Non ho capito, potete ripetere per cortesia Madonna che è? Che stai? Lo show di Pucci Voi siete mascheraio? Fate le maschere? No, non facciamo maschere noi Non fate le mascherine? No, le mascherine no No, non le fate Però le facevate? Sì Ah ho capito, ho capito, quindi ho fatto il numero Le facevamo, non le facciamo più adesso Che fate adesso, giusto per curiosità? Facciamo le buste per la mascherina, facciamo tutto quello che è busta di plastica Ah, ho capito, prima facciamo la busta per la mascherina, tra un po' fate le facce Tutto il percorso creativo, meraviglioso Vabbè, non me ne frega un cazzo, ho capito che non mi sei utile E che modo di parlare questo? Non è zuta Cosa hai detto, bello? O cazzo che ci dà un busto Che si fa scimolare la fuga, o cazzo, non è zuta Cosa hai detto, che non ho capito, che lingua parlo? Ma sta grandalosa, cazzo Cosa hai detto? Perché ve la dombro, cazzo, cazzo E te la fa mocca a mano Sai che ti schiaccio gli occhi e sento il rumore Come il telefono Ti schiaccio gli occhi come le app dell'iPhone, hai capito? Scemo di merda Bastardo Sa che ci ho riflettuto Un attimino C'ho riflettuto, ho capito che Mi stai sul cazzo Ma tu stai mangiando, fai te No, perché Ma non tanto tu Tu sei il secondo Il primo è quell'altro Quell'altro che mi ha messo giù la cornetta Che è un faccia di merda Passamolo un attimo che lo mordo Oh, ma che chiamma fa? Ma per che mi viene vicino Che fai se ci mi viene vicino A posto di fatelo cazzo a te Ma che cazzo stai dicendo? Che stai mangiando Siamo con un muscolo asciuto Con un muro cazzo Mi faticano Ma lo fai trocaccio Scemo di m***a Perché non mi viene vicino A fuori sceme? Sai che ti mordo una guancia Proprio così Ma perché non mi viene vicino A fuori sceme? Ti la fai A posto di fuori sceme Che mi va a spaticare? Fa trocaccio Che mi viene vicino A fuori sceme? Già, sei fantastico Prendi la chitarra Adesso Perché non mi viene vicino A fuori sceme? E li fai bloccantando Ma non fai trocaccio Ma non mi è cugnome Ti li pare Non mi è cugnome Ti stico le armi Arrivano come un fai Arrivano Soddisfazione Cazzo la gente Adesso lo richiamiamo Diciamo che è uno scherzo Infatti adesso lo richiamo Però lo tagliamo Questa parte la tagliamo Questa parte la tagliamo